ciao amici bentornati in questo mio nuovo video oggi per voi ho deciso di portare alcuni video che sicuramente non vi lasceranno dormire per un bel po' in un locale notturno una telecamere di sicurezza riprende quello che sembra essere un fantasma l'ha detto alla sicurezza vedendo quelle immagini rimane completamente scioccata molti di voi avranno già sentito parlare del big foot un essere scimmiesco che abiterebbe le foreste degli stati uniti c'è chi dice che le storie sui big foot siano solo pura fantasia altri invece dichiarano di averlo visto come nel caso di questo signore che era intento a esplorare in una foresta degli stati uniti e si è imbattuto in qualcosa di veramente straordinario mentre stava riprendendo il tutto con la sua telecamera si imbatti in una costruzione fatta di tronchi d'albero dalle immagini si può notare che questa specie di rifugio non è una cosa naturale è stata creata da un essere intelligente mentre l'uomo cerca di entrare all'interno di questo rifugio incomincia a sentire dei rumori i rumori vengono accompagnati da uno strano rugito che fa fuggire l'uomo a gambe levate l'uomo è molto spaventato mentre sta percorrendo la strada del ritorno nota che alcuni tronchi degli alberi incominciano a muoversi l'uomo focalizza l'obiettivo della telecamera in quel punto e questo è ciò che ha ripreso tra le immagini non si capisce bene cosa possa essere ma dall'altezza di quegli alberi quello strano essere dovrebbe essere alto dai 3 ai 4 metri voi cosa pensate cosa potrebbe essere nel prossimo filmato possiamo notare un'auto che sta cercando un posto dove parcheggiare la propria auto mentre percorrono la strada davanti alla loro macchina si materializza un'ombra oscura il conducente del mezzo non riesce a bloccare in tempo l'auto che investe quella strana ombra il conducente e il passeggero dell'auto scendono dalla macchina per capire cosa potesse essere successo ma non trovano nulla di strano a parte un foglio che a terra che si è materializzato subito dopo aver investito quell'ombra l'uomo raccoglie quel foglio gli da prima un'occhiata per poi ributtarlo a terra i due si rimettono nell'auto increduli di ciò che è successo e vanno via durante la ristrutturazione di una casa una donna di un uomo etascia ha incominciato a lamentare degli strani fenomeni che sarebbero cominciati proprio da quando la donna avrebbe ricominciato a ristrutturare la casa ma questo non è tutto quello che succede oltre ad alcuni fenomeni di poltergeist una notte la telecamera di sicurezza installata nella veranda registra dei rumori di passi accompagnati subito dopo da una strana voce tutti questi fenomeni rimangono ancora inspiegabili come al solito l'ultima parola la lascio a voi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate il video finisce qui ragazzi noi come al solito ci rivediamo alla prossima ciao ciao